Tutta colpa di un soppalco e il sogno di aggiungere un ulteriore negozio in una delle location più ambite di Milano, quella della Galleria Vittorio Emanuele, svanisce nel nulla. È la storia del marchio di gioielli buccellati che nel maggio del 2018, tramite la società del Ballino, si era giudicata al bando comunale per uno spazio di 60 metri quadrati all'interno del salotto milanese, prima occupato da Leo Pizzo, un altro brand di gioielli. L'offerta economica era stata di 315 mila euro, partendo da una base d'asta di 116 mila euro. Ma a causa di lavori non autorizzati, sembrerebbe appunto colpa proprio di un soppalco, lo spazio in novembre scorso è tornato dritto al mittente, dopo un'ordinanza di decadenza del contratto d'affitto emessa da Palazzo Marino nei confronti della stessa società. Lavori non conformi e in assenza delle dovute autorizzazioni, si legge nell'ordinanza. A nulla è servito il ricorso della società presentato davanti al TAR della Lombardia per l'annullamento del provvedimento in corso, poiché sia in primo grado che in appello davanti al Consiglio di Stato il ricorso è stato respinto. E ora il negozio, chiuso ormai da due anni, cerca un nuovo affettuario. La Giunta Comunale infatti ha approvato le linee di indirizzo per la valorizzazione del locale che si trova lungo l'aste longitudinale della galleria e che andrà all'asta con il meccanismo dell'incanto a partire da una base di 280.935 euro di canone annuo. La gara si svolgerà in due parti. Nella prima saranno valutate le offerte tecniche che soddisfano i requisiti per l'adesione al bando. Saranno ammessi i progetti merceologici d'eccellenza ed alta qualità del Made in Italy e internazionale del design, della moda, dei gioielli e delle opere d'arte. La seconda fase, riservata a sole concorrenti che saranno qualificati, avverrà con asta pubblica d'incanto. E chissà che questa volta non sia proprio la volta buona.